Pica nazionale concorso 2166 per Trissi e Quarta e Quintemi, 1600 metri, nel caro Ftars a Naomi UR, Nuccio a Tuprio da Viscabar, Nepune e Mencobra, Coro Puro F e Nubelwag in prima fila, in seconda in Wendogrip, Noblesso, Blicia, Ciro, Truin, Baba, Missuri, Caro, Torno, Sai, Kiu, Eoreb, Del Rio, 3.000, Nadia, Cam, Olivia, Di Casei e Number One, Rocco. Nepune e Mencobra avanti a Naomi UR, poi all'esterno Oro Puro F, più allargo scatta Nubelwag, in diagonale dall'interno verso l'esterno Nepune e Mencobra, Oro Puro F e Nubelwag in lotta, 13.7 per il lancio, con Nepune e Mencobra al comando, allargo sempre Oro Puro F, terza ruota rimane Nubelwag, poi ancora per linee interne Naomi UR avanti a Nuccio, del Pri, tanto l'errore e la squalifica per il Nwendogrip, 29.3 il quarto iniziale, davanti alle tribune, all'avanguardia Nepune e Mencobra, in seconda posizione Oro Puro F, poi Naomi UR, quindi Nuccio del Pri, dalla retroguardia sta migliorando Olivia Di Casei, seconda e penultima piegata, con Nepune e Mencobra sempre all'avanguardia, in seconda posizione rimane Oro Puro F, in terza Naomi UR, poi Nuccio del Pri, in fuori Nubelwag, 13.3 la media per i primi otto, sempre Nepune e Mencobra al comando, 39 per chiudere la seconda frazione, il giro va via in 15.7, migliora Nubelwag che ha anticipato la risalita di Olivia Di Casei, all'avanguardia Nepune e Mencobra, in seconda Nubelwag, per l'interno è sempre Oro Puro F, all'argo Olivia Di Casei, sbaglio da Liskabar a Tabellone, prova a migliorare Missouri Car al pari di Oreb del Rio, in addirittura Nepune e Mencobra avanti a Oro Puro F, a centropista lo scatto di Missouri Car, Missouri Car in caccia di Nepune e Mencobra, e allora nel finale, 11, 5, 12, 17, 15, in passaggio al traguardo del premio Backpack, Giochi e scommesse risolve allo sprint, Missouri Car, che ormai con qualunque numero lo si metta, riesce ad imporsi sempre nelle prime posizioni, trova ancora un podio onorevole, fa sua questa corsa Tris, per il secondo posto probabilmente il 12 di Ottone Rosai Chio sul 5 di Nepune e Mencobra, la foto probabile per il secondo posto, in quarta il 17 di Number One Rock sul 15 di Nadia Cam, e allora 11 al primo posto, la seconda posizione al 12, 11, 12, 5, 17, 15, il risponso del premio Backpack, Giochi e scommesse, Tris, quarta e quinta della giornata, la Torino del Trotto, torna domenica 26 maggio con il premio Tigri, mentre, appunto, ribadiamo il successo di Missouri Car, totalizzatore 6, 44, 11, 12, 5, 17, 15, l'arrivo numerico preso dal sottoscritto del premio Backpack, Giochi e scommesse, i giochi e le scommesse a Torino, riprendono domenica. Grazie per essere stati con noi, un saluto ovviamente agli amici in studio.